Mentre il candidato sindaco 5 Stelle, Giovanni Quarato, veste i panni di un cameriere nell'iniziativa elettorale di questa sera, all'interno del meetup divampano le polemiche sulla gestione chiusa e accentratrice nella composizione delle liste. E le accuse vengono non solo dalla frangia che ha presentato la candidatura di Francesco Bacchelli, ma anche da altri attivisti storici che non si riconoscono né in Cuttano né in Quarato. Sono circa una decina di fatti, gli attivisti della prima ora, che non sono riusciti a trovare una posizione nel listone pentastellato e ai quali non sarebbero state offerte delle giustificazioni soddisfacenti. Nel mirino finisce Giovanni Quarato, che di fatto ha aperto alla società civile e a chi, nel movimento, non ha ricoperto alcun ruolo di sorta. Un altro nodo riguarda la rappresentanza dei diversi meetup nelle liste. Per ovviare al forte frazionamento interno, i grillini sono riusciti a trovare una quadra con un meetup unico, ma le correnti oggi non sarebbero equamente rappresentate tra i 32 nominativi che compongono la lista. Da Lops, Scarnecchia, Cassitti, le lamentele sono continue, anche perché mancherebbero ancora 5 nomi da inserire in lista, ma che saranno scelti, ancora una volta, dalla società civile e non dal gruppo storico degli attivisti a 5 stelle.